Mobilitarsi per non far calare il silenzio sull'emergenza è questo lo scopo del presidio organizzato dalla Fai Cisle Cisle Piemonte Orientale insieme alle RSO aziendali di Berri Callebo per sabato alle 10 in Piazza Ranzoni a Intra. L'azienda ha infatti annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Verbagna entro il primo trimestre del 2025 a rischio il posto di lavoro di 150 dipendenti. Questa decisione colpisce non solo le tante famiglie coinvolte ma l'intero territorio spiegano i sindacalisti questa non è solo una crisi aziendale è una crisi sociale per Verbagna un territorio già poco industrializzato che rischia di perdere forza lavoro e vitalità. E proseguono sabato ci troviamo in Piazza Ranzoni per alzare la voce e difendere i nostri diritti. Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione su questa emergenza. Non possiamo permettere che le nostre famiglie e il nostro territorio vengano abbandonati. Per il 2 ottobre intanto è stato convocato un tavolo nazionale al ministero delle imprese del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso.